Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video oggi andiamo a fare la seconda puntata del Road to Invisalign quindi praticamente il mio percorso per arrivare a mettere l'Invisalign che oramai è iniziato perché ho scelto l'ortodonzista e quindi vi vado a spiegare secondo quali criteri ho scelto l'ortodonzista e quali sono le valutazioni che posso fare dopo aver passato un buon mese a vedere vari specialisti e quindi diciamo quali sono i miei consigli ciò che io ne ho tratto diciamo come consiglio da potervi dare quando vi accingerete a dover scegliere il vostro specialista allora inizialmente ho scelto il mio primo ortodonzista meramente un po' diciamo a caso sono andata sul sito della Invisalign che nel caso vi lascio in infobox e ho guardato quello che era praticamente un po' lo stradario quindi sono andata a vedere semplicemente quelli che erano un po' più raggiungibili visto che io abito in una grande città e quindi magari ho eliminato tutti gli ortodonzisti che stavano veramente dall'altra parte della città mi sono tenuta diciamo nella metà della città che più o meno è abbastanza vicino a dove io abito anche perché all'inizio non avevo nessun tipo di idea su come poter scegliere lo specialista e su quali fossero praticamente le caratteristiche che avrei dovuto ritenere importanti per sceglierlo mi sono segnata invece adesso qua nel quaderno delle note, degli appunti in punti che vi vorrei appunto man mano raccontare e che secondo me ho capito a posteriori soltanto dopo aver fatto il mio tour diciamo di ortodonzisti che per me sono stati importanti e mi hanno condotto alla scelta dello specialista è ovvio che sarebbe magnifico se noi avessimo una laurea in questa materia e quindi potessimo fare una scelta basata su dei dati appunto scientifici quindi conosciamo la materia e possiamo capire chi può diciamo essere lo specialista giusto per noi però ahimè questo non è possibile l'ortodonzista come un po' a tutti i medici ha come secondo me caratteristica principale che ci deve trasmettere quella di trasmetterci appunto fiducia quindi dobbiamo istintivamente per una serie di fattori che magari non sono puramente appunto scientifici fidarci di lui quindi senza altro quindi questa fiducia va conquistata quindi la fiducia del paziente va conquistata a mio avviso badando a delle cose molto importanti almeno per me per esempio una di queste è il tempo che l'ortodonzista vi dedica personalmente ho eliminato tutti gli ortodonzisti che mi hanno un po' trattato come una cliente più che come una paziente quindi tutti quelli che piuttosto che parlarmi del percorso che avrebbero voluto affrontare sulla mia bocca, sui miei denti mi hanno subito liquidato in 5 minuti facendomi accomodare con la loro assistente, con la loro segretaria per dirmi quanto questo percorso mi sarebbe costato in realtà io non ho assolutamente scelto il mio ortodonzista sulla base del prezzo perché già a monte mi ero informata sommariamente e già sapevo che un percorso per una persona che ha i denti così storti come ce li ho io è un cosiddetto invisalign comprehensive o full che dir si voglia quindi un percorso di quelli credo di non dire una fesseria che superano le 15 mascherine, comunque quelli più complicati si dividono praticamente in fasce i percorsi di invisalign e quello appunto che prevede più mascherine quindi più complicato e casi più complessi di regola ha una certa cifra come costo più o meno ci sono dentisti ortodonzisti che ve la faranno pagare un po' meno altri un po' di più però più o meno c'è una forbice di prezzo e quella è quindi nel momento in cui una persona come me che sa di avere un caso abbastanza complicato si rivolge ad un dentista, anzi ortodonzista poi vi dirò anche che ho capito meglio che questa differenziazione è importante in quel momento tu già sai che ti stai apprestando a fare una grossa spesa per cui il metro di giudizio a mio avviso ed è un consiglio spassionato che vi do non può essere assolutamente quello di scegliere il vostro specialista sulla base del prezzo ma deve essere assolutamente quello di scegliere la persona che per voi farà il percorso più giusto questo è particolarmente importante se poi non siete più giovanissime e se avete un grande spostamento da realizzare quindi i denti sono molto storti questo perché praticamente raddrizzare i denti comporta appunto muoverli e muovere di parecchio i vostri denti soprattutto appunto se non siete più giovani potrebbe avere delle complicanze potrebbe avere delle conseguenze quali? ovviamente come tutti la prima cosa che ho fatto quando ho deciso di intraprendere questo percorso è stato googlare un po' quelli che erano gli estremi del mio caso affollamento denti inferiori, grave affollamento eccetera eccetera quello che si dice sempre che non bisognerebbe fare ma che tutti facciamo e che anche io ovviamente come prima cosa mi sono messa a fare non appena ho deciso diciamo che avrei intrapreso questa strada questo in realtà mi è servito per capire che lo spostamento dei denti ha sia un risvolto ovviamente estetico che sarà quello di raddrizzare i vostri denti ma comporterà anche praticamente il fatto che i vostri denti si dovranno muovere e non è che i denti si possono far muovere così a caso cioè la mascherina è il mezzo che li fa muovere ma dietro la mascherina ci deve essere un bravo operatore cioè un bravo ortodonzista che sa esattamente quali movimenti far fare ai vostri denti e soprattutto ripeto nel caso di persone con una certa età questo assume più importanza per quale motivo? perché la densità ossea con l'età diminuisce quindi diminuisce anche quella praticamente della vostra bocca i vostri denti sono appunto scusatemi se non uso termini medici visto che non lo sono ma sono per così dire infilati in un osso i vostri denti quindi laddove voi avete poco osso avete una perdita di densità ossea avete una forma del palato, della mascella, della mandibola che ha appunto una certa forma questa forma deve essere presa in considerazione per i movimenti che vanno fatti quindi non è semplicemente darvi delle mascherine e farvi muovere i denti è decidere come farli muovere con quelle mascherine quindi la bravura dell'ortodonzista è tutta lì perché se no basterebbe praticamente inviare la forma della nostra bocca quando vi prendono l'impronta in America vi rimandano le mascherine vi mettono le mascherine belle che fatte con i movimenti prestabiliti da una macchina ma così non è la macchina quando vi prendono l'impronta quindi quando con quella sorta di sonda vi prendono l'impronta dà un'idea di base di quella che è appunto la vostra bocca e di quella che potrebbe divenire la vostra bocca ma tra il prima e il dopo tutto il percorso deve essere valutato dall'ortodonzista e l'ortodonzista che ci mette la sua laurea di mezzo quindi la sua capacità e i suoi studi per capire come dal punto A portarvi al punto B e questo è fondamentale perché ripeto nelle persone che hanno superato una certa età quindi verso i 50 c'è per esempio uno dei fenomeni che avviene un po' di recessione gengivale quindi la gengiva tende un pochino a ritirarsi ci può essere un inizio di parodontite quindi la parodontite è una malattia che se non curata se non valutata correttamente può portare alla perdita dei denti i vostri denti possono cadere praticamente potete perderli quindi questi fattori che ovviamente hanno una incidenza maggiore nelle persone di una certa età è raro che ci sia recessione gengivale o parodontite nei pazienti giovani ventenni per esempio o tantomeno nei ragazzini però ripeto se qualcuno è del ramo e vuole correggermi perché ne sa più di me lo faccia tranquillamente anzi è arricchente questa cosa e lo deve essere questo è quello che a me sembra di aver capito e sulla base del quale io ho cercato di prendere la mia decisione io ho capito insomma che era molto importante che era trovare una persona competente all'inizio onestamente pensavo che il 90% del lavoro lo facesse tra virgolette la mascherina il dentista o meglio l'ortodonzista ti prende l'impronta capisce come è fatta la tua bocca il computer praticamente elabora quello che è il percorso dal punto A al punto B ti mandano le mascherine e tu le metti è buona questo secondo me qualche dentista lo fa qualche ortodonzista lo fa e lo fa chi non ha secondo me una particolare esperienza e magari non ha trattato molti casi quindi per me l'importante era trovare qualcuno che invece avesse visto veramente tanti casi e avesse trattato casi simili al mio quindi per esempio ho escluso anche tutti quelli ortodonzisti che mi sembrava avessero poca esperienza e questo lo potete verificare sul sito di Invisalem perché il sito di Invisalem dà praticamente delle sorte di una leggenda di simbolini e con questi simbolini voi potete vedere quanti casi il medico ha trattato e quindi giustamente più casi ha trattato più avrà avuto esperienza più persone con la vostra stessa problematica avrà visto inoltre oggigiorno è molto utile anche Instagram quindi magari sono andata a vedere il loro profilo Instagram e a vedere quali tipi di casi hanno trattato ci sono per esempio ortodonzisti che mi sono sembrati parecchio focalizzati sull'estetica per esempio di influencer o comunque di volti noti di VIP persone che però magari partivano con una bocca già molto bella magari una bocca che per me sarebbe il sogno finale e che per loro magari è la partenza e quindi magari mettere a posto tra virgolette qualcosa di quasi perfetto magari su una persona appunto giovane che non ha problemi di parodontite che non ha problemi di recessione gengivali che non ha tutti i denti sorti come me è giustamente molto più semplice e anche molto meno rischioso nel senso meno i denti si devono muovere meno percorsi devono fare cioè io ho dei canini che si devono ruotare praticamente di 360 gradi per raddrizzarsi magari invece ci sono ragazze bellissime influencer youtuber modelle VIP eccetera che ho visto nei vari profili dei vari ortodonzisti che magari vogliono raggiungere la stra mega super perfezione quindi devono fare dei piccoli movimenti i piccoli movimenti comportano ovviamente piccoli rischi parliamoci chiaro chi invece deve fare grossi movimenti ha bisogno di una persona molto capace che sappia quello che fa in pratica mi è stato spiegato che è come se i nostri denti fossero dentro una sorta di un binario di una rotaia quindi se i movimenti che vengono fatti all'interno di questo binario non vengono fatti correttamente il dente può uscire dal binario e può cascare detta proprio in soldoni quindi la competenza che ci sta a monte da parte dell'ortodonzista è fondamentale per cui ho cercato di capire man mano quando ho capito appunto questo se l'ortodonzista avesse molta esperienza di casi simili al mio e quindi come vi ho detto ho per esempio escluso tutti quegli ortodonzisti che invece avevo visto che puntavano magari più sull'estetica altra cosa ho iniziato appunto a chiedere che mi venissero mostrati i lavori di persone magari che avevano la mia stessa problematica mi sono resa conto che molti non avevano questo tipo di casistica e anche per questo motivo li ho appunto esclusi quindi ribadisco cioè riassumo ho escluso tutti quelli che mi hanno dedicato su non 5 minuti molti veramente non hanno nemmeno voluto vedere la radiografia che io avevo già perché io l'avevo fatta a fine del 2019 perché avevo intenzione di iniziare con Invisalign nel 2020 e poi c'è stato quello che c'è stato e molti non l'hanno neanche voluta vedere mi hanno fatto aprire letteralmente 2-3 secondi la bocca hanno guardato me l'hanno fatta richiudere mi hanno detto si guarda accomodati pure dalla segretaria e fai il preventivo cioè non mi stai vendendo una macchina quindi via tutti quelli che secondo me non vi dedicano del tempo non guardano la vostra bocca ho prediletto tutti quelli che avevano lo strumento credo che si chiami Aitero che è lo strumento praticamente una sorta di sonda che loro vi passano dentro la bocca e che istantaneamente vi dà lo scanner in 3D appunto della vostra bocca in modo che lui immediatamente ti fa vedere nel computer la tua bocca e inizia a spiegarti cosa intende fare cosa intende muovere come intende creare lo spazio insomma ti spiega il piano clinico che ha intenzione di seguire sulla tua bocca questi dentisti che mi hanno dedicato del tempo a spiegarmi quale sarebbe stato il percorso e quale sarebbe stato l'iter che avrebbero voluto seguire per portare i miei denti dal punto A questo al punto B finale cioè quello finalmente dove avrò i denti raddrizzati questi sono stati quelli a cui ho dato appunto seguito che ho tenuto in considerazione per poi prendere la mia decisione finale quindi invece via quelli che non mi hanno dedicato tempo via quelli che secondo me non avevano una casistica di persone simile alla mia e poi ho anche scartato quelli che mi sono resa conto che svolgono entrambe le professioni cioè quelli che fanno sia i dentisti che gli ortodonzisti perché mi sono resa conto che alcuni fanno sia l'una che l'altra cosa però di regola quelli che fanno l'una e l'altra cosa sono quelli che seguono casi molto molto semplici ce n'è stato uno che si è autoscartato e ho apprezzato moltissimo la sua onestà che infatti mi ha detto guarda io tecnicamente sarei un dentista che fa anche dei casi di ortodonzia ma molto semplici il tuo caso è parecchio complicato ci sono veramente tanti movimenti da fare e sinceramente preferisco dirottarti su un collega che fa esclusivamente questo perché secondo il mio parere questo dentista questa persona questo professionista ad aprirmi per esempio questo tipo di visuale mi ha detto ti devi rivolgere a una persona che fa solo l'ortodonzista ci sono appunto ortodonzisti e ci sono dentisti e ci sono quelli che fanno entrambi quelli che fanno entrambi di solito trattano casi molto blandi casi molto semplici casi di piccoli spostamenti che possono ovviamente gestire anche loro e mi ha detto praticamente che il loro mestiere così come quello per esempio dei medici in generale ha dei settori di competenza quindi ad esempio mi ha detto quando io devo estrarre un dente del giudizio incluso che è cresciuto completamente orizzontale che è completamente chiuso dalla gengiva che ha magari un nervo che attiene alla mimica facciale che passa in mezzo alla radice non lo faccio perché io sono un dentista non sono un chirurgo maxillofacciale e allora nel mio studio quando ho questi casi chiamo il chirurgo maxillofacciale viceversa l'ortodonzista lo chiamo quando appunto ho dei casi di ortodonzia complicata come il tuo e io non me ne occupo io faccio tecnicamente proprio il dentista quindi io non la sapevo questa cosa nella mia ignoranza quando sono partita diciamo nella ricerca del mio specialista pensavo che fossero la stessa cosa invece ho capito che sono assolutamente due cose diverse soprattutto ripeto se siete un caso come il mio quindi io parlo di casi abbastanza complicati se siete dei casi che credo si chiamino light per quanto riguarda Invisalign quindi casi semplici è probabile che ve li possa trattare anche il vostro dentista diversamente dovete cercare tecnicamente proprio un ortodonzista questo era il motivo per cui non capivo io cercavo appunto l'ortodonzista su Invisalign arrivavo allo studio e lo studio quasi sempre aveva un altro nome immaginiamo dottor XY era quello che io avevo cercato nello studio scusate nel sito di Invisalign arrivavo e questo dottor XY non lavorava nello studio del dottor XZ questo perché praticamente gli ortodonzisti spesso si appoggiano appunto a vari studi per esempio fanno quelli del nord Italia fanno varie città nel nord Italia magari fanno Torino Milano Verona Venezia e così via dove seguono appunto vari casi questo perché per l'ortodonzista c'è lo studio iniziale del caso poi arrivano le mascherine te le danno poi ti fanno un controllo credo dopo due mesi o dopo un mese quindi lui praticamente non ha bisogno di rivedere il paziente a cui ha dato le mascherine la settimana dopo ma lo rivede dopo un mese e quindi di solito si appoggiano appunto a vari studi dentistici che tra virgolette procurano loro i pazienti che lì si rivolgono chiedendo appunto l'ortodonzia quindi l'ortodonzista spesso non è nemmeno stabile su uno studio ma ha vari studi appunto in una regione italiana molti fanno nord, sud, centro dipende però ho visto in linea di massimo magari città del nord Italia servono varie città del nord Italia oppure del centro oppure del sud dipende da dove appunto stanno questo all'inizio mi sembrava stranissimo non capivo perché avvenisse questa cosa dopo appunto ho capito che ogni studio dentistico si serve appunto di un ortodonzista che va da lui un tanto di volte al mese proprio per seguire i pazienti che stanno facendo l'ortodonzia quindi riassumendo ancora vorrei che fosse ben chiaro il fatto che per esempio per me è stato fondamentale suddividere coloro che mi avevano trattato come un cliente da coloro che mi avevano trattato come un paziente quindi secondo me è chiara e netta differenza tra preventivo e studio del caso è ovvio che uno studio del caso completo prevede che si facciano esami ulteriori che magari come per esempio nel mio caso di approfondimento sono stati fatti dopo che io avevo scelto quel dentista quindi mi è stata fatta la scusate non so i termini tecnici la radiografia frontale la radiografia del cranio mi è stata fatta a posteriori quando ho deciso che lui sarebbe stato il mio dentista però per esempio l'uso della sonda quella per fare il 3D lui ce l'aveva quindi io spassionatamente vi consiglio di scegliere dentisti che sono appunto che hanno studiato molti casi e che quasi sempre hanno in studio questa sonda che si chiama Aitero anche questa è una cosa che potete vedere nella leggenda che vi viene data appunto dal sito di Invisalign dove potete anche vedere se un dentista è silver è gold è diamond o è platinum a seconda appunto del numero di casi che ha visto e onestamente io se siete un caso complicato vi consiglio spassionatamente di andare a prendere il dentista appunto che ha il più alto numero di casi quindi di andare a vedere dentisti che sono diamond o platinum appunto e la maggior parte appunto dei diamond o dei platinum hanno la sonda Aitero e questo è molto importante perché la sonda Aitero si usa in un attimo e chi ce l'ha te la usa subito quando vai proprio per la prima volta a sentire il suo parere passa la sonda sui denti ti fa il rendering in 3D te lo fai immediatamente vedere sul computer e mentre appunto insieme guardate questo rendering in 3D ti spiega come intende procedere chi invece non ce l'ha non fa questo tipo di lavoro di solito ti dedica molto meno tempo e non ha diciamo immediatamente del materiale da vedere insieme a te su cui ragionare insieme con cui spiegarti appunto che cosa intende fare dei tuoi denti altra cosa vi consiglio di andare a vedervi prima di vedere appunto i dentisti di andare a vedere un pochino quali sono i nomi con cui vengono denominate le varie problematiche ortodontiche per esempio io non sapevo all'inizio quando ho visto il primo dentista cosa fosse una prima classe una seconda classe una terza classe invece secondo me è importante saperlo perché quando il dentista cercherà magari di spiegarvi chi ve lo spiega chi non ve lo spiega secondo me lasciate perdere quando cercherà di spiegarvi questa cosa voi riuscirete a capire meglio e quindi entrare più in sintonia con lo specialista e non lo so vi darà un feedback migliore ecco riuscire a entrare a capire quello che vi sta dicendo allora la prima classe è quella fisiologica cosa significa fisiologica significa come si chiude la vostra parte di sopra dei denti con la vostra parte di sotto quindi il morso si chiude nella maniera corretta quella è una prima classe quando invece la parte di sotto dei vostri denti è indietro rispetto alla parte di sopra immaginate questa è la vostra bocca quindi il sotto è indietro rispetto alla parte di sotto quella è una seconda classe quando invece la parte di sotto è in avanti rispetto alla parte di sopra è una terza classe quindi è questo, cioè quando avete questo in avanti, il mento verso in avanti, quando invece avete il mento verso indietro è una seconda classe ovviamente possono essere particolarmente pronunciate, particolarmente gravi oppure appena accennate da quello che ho capito quando sono molto gravi, l'unico modo per poterle correggere è la maxillo facciale, quindi l'operazione chirurgica quando invece sono lievi si possono appunto correggere contestualmente al trattamento di ortodonzia e nel mio caso io ho una seconda classe, quindi ho leggermente la parte appunto sotto indietro, ma leggermente è una roba molto leggera, tant'è vero che nel mio caso potevo scegliere anche di non correggere questa seconda classe però con il mio ortodonzista abbiamo deciso di correggere anche questa seconda classe lui è stato l'unico tra tutti quelli che ho visto, io ho visto circa 10 specialisti che mi ha appunto parlato in maniera molto più completa di cosa fosse la seconda classe, la prima classe, la terza classe e è stato l'unico in assoluto che mi ha spiegato che avrei potuto mettere i cosiddetti elastici gli elastici sono appunto degli elastici che si attaccano tra i denti di sopra e i denti di sotto con degli speciali attacchi, è il paziente che deve ogni volta che attacca le mascherine mette le mascherine e attaccare anche gli elastici tra sopra e sotto e praticamente mettono in trazione un dente di sopra con un dente di sotto per fare in modo che si aggiusti anche la classe per aggiustare la classe nel mio caso dovrò levare, credo, almeno sicuramente uno, forse due denti superiori ottavi, quindi i cosiddetti denti del giudizio superiori questo perché per aggiustare la mia seconda classe bisogna creare spazio con quei due denti di dietro e abbiamo deciso appunto di mettere gli elastici il trattamento che farò appunto con gli elastici sarà quindi più lungo che non se io avessi deciso di non metterli però questo consentirà sia un migliore risultato estetico sia appunto l'aggiustamento della seconda classe quindi anche questo mi ha fatto pensare perché è stato l'unico che mi ha parlato della seconda classe che mi ha parlato della possibilità di correggerlo che mi ha parlato della possibilità di mettere gli elastici ultima cosa, le estrazioni le estrazioni è possibile che vi vengano proposte ovviamente dall'ortodonzista che andate a consultare questo perché in certi casi sono indispensabili nel senso che se lo spazio tecnicamente per mettere in forma i vostri denti non c'è va creato estraendo dei denti che appunto faranno spazio un'altra possibilità è quella di fare il cosiddetto stripping cioè praticamente quella di limare tra dente e dente ovviamente il dentista sa esattamente come fare lo stripping si tratta di limature millimetriche che non vanno a danneggiare il dente che non vanno a danneggiare nulla che devono ovviamente essere sapute fare ma è un ortodonzista quindi se lo scegliete vi fidate di lui è ovvio che sa fare il suo lavoro grazie a queste limature millimetriche si creeranno appunto degli spazi in certi casi le estrazioni sono necessarie in altri sono invece addirittura sconsigliate lo stripping in certi casi si può fare in certi altri non si può fare cercate sempre di capire la motivazione per cui vi stanno proponendo di fare un'estrazione nel mio caso per esempio mi è stato proposto da alcuni di non farla e da alcuni di farla quindi vi trovate veramente davanti a questo bivio e voi non sapete chi ha ragione e chi ha torto è una situazione molto... che vi lascia una grande situazione di incertezza se siete lì che non sapete che pesci prendere soprattutto se come nel mio caso vi viene proposta una estrazione piuttosto invasiva invasiva nel senso che nel mio caso vi veniva suggerito di estrarre uno di questi denti sotto quindi praticamente io sotto non avrei più avuto i due canini e al centro i quattro incisivi ma avrei avuto i due canini e al centro tre incisivi quindi uno dei tre incisivi, quello centrale sarebbe dovuto essere messo, diciamo, centrato con la linea cosiddetta mediana dei due incisivi superiori però io avrei avuto tre denti sotto ovviamente tutti a dirmi che la cosa non si sarebbe vista che ovviamente quelli che si vendono di più sono i denti superiori che con l'abbro inferiore noi copriamo i denti di sotto però è anche vero che un po' parlando li vedi e quando tu sai di averne tre io mi ero fatta la fissa che tutti mi avrebbero fissato e avrebbero visto soltanto i miei tre denti di sotto quindi ero molto molto impaurita all'idea di estrarre sia per l'estrazione in sé sia per il risultato estetico quindi non mi sono fermata a questo e avevo avuto un primo medico che mi aveva proposto questa opzione come la migliore che mi aveva detto potremmo anche eventualmente vedere di valutare lo stripping quindi di creare lo spazio non con l'estrazione ma con la limatura però sarebbe meglio fare appunto l'estrazione anche io mi stavo per decidere e gli dissi praticamente che la mia unica perplessità è che ero molto molto triste dal fatto di levare il dente che ero perplessa dal punto di vista appunto dell'estrazione non sapevo se mi sarei piaciuta che mi sembrava quasi di essere arrivata al punto di avverare finalmente il mio sogno di avere i denti dritti ma di non poterlo avverare al 100% perché avrei avuto comunque un sorriso di cui non sarei stata contenta perché mi sarei vista tra incisivi e probabilmente non mi sarei mai piaciuta al che lui mi ha detto una cosa che mi ha fatto propendere per non sceglierlo perché molto sbrigativamente mi ha detto vabbè comunque se non lo vuoi fare non lo facciamo facciamo lo stripping e non l'impopping però senza quasi veramente ascoltarmi e parlare con me di questa cosa quindi il feedback l'impressione che io ho immediatamente avuto è stata quella che lui mi stesse semplicemente dicendo quello che volevo sentirmi dire perché così io avrei fatto il trattamento avrei scelto di iniziare avrei firmato per spendere quei 6.000 era un preventivo di 6.400 euro e avrei iniziato quindi non ho avuto fiducia nel ritenere che il trattamento si potesse fare con lo stripping e non con l'estrazione non ho più scelto questo ortodonzista perché in quel momento quello che lui mi ha trasmesso era che mi stava dando ragione giusto perché così io avrei iniziato il trattamento e quindi non l'ho scelto un altro ortodonzista invece mi aveva detto che assolutamente si doveva per forza estrarre il dente perché se no lo spazio non si sarebbe creato e praticamente in questo modo non avremmo potuto procedere se non appunto con l'estrazione l'ortodonzista invece che alla fine ho scelto ha speso veramente parecchio tempo nello spiegarmi perché l'estrazione non sarebbe stata adeguata nel mio caso perché avrebbe peggiorato la mia seconda classe avrebbe portato i denti ancora più indietro perché essendocene meno il cerchio diciamo di sotto si sarebbe chiuso ancora più verso dentro avrebbe peggiorato la mia seconda classe e inoltre lo stripping nel mio caso mi ha spiegato che è assolutamente necessario perché magari voi non lo notate da questa distanza ma poi veramente vi farò vedere il rendering vi farò vedere il clean check vi farò vedere le foto della mia bocca quando partiremo e metterò la prima mascherina vi farò vedere bene le foto magari me le farò dare perché lui appunto me le ha date da dove si vede benissimo che i miei denti hanno una forma rettangolare cioè scusate triangolare cioè adesso vi faccio un disegno per farvi capire di come più o meno sono i miei denti di sotto i miei denti di sotto sono più o meno così vedete con una base più piccola e una parte superiore più larga cioè sono fatti così sono fatti un po' ad imbuto ragion per cui se noi andassimo ad accostarli uno all'altro quindi a raddrizzarli uno con l'altro senza appunto fare lo stripping si avrebbe praticamente la creazione di quelli che si chiamano spazi neri nel senso vedete si accosterebbero in questo modo i miei denti e tra l'uno e l'altro cioè in questa questa parte qua rimarrebbe praticamente un triangolo rovesciato che ovviamente sembrerebbe uno spazio nero perché c'è il buio appunto che c'è nella parte interna della nostra bocca non so se mi sono spiegata quindi comunque vanno i miei denti rettangolarizzati in un certo qual modo ora ribadisco scusatemi se sto utilizzando dei termini molto così generici se non mi sto spiegando al meglio però questo è un po' più o meno quello che ho capito quindi comunque avendo io una forma molto triangolare vanno anche sistemati dal punto di vista della forma insomma non sto a scendere nei particolari del mio specifico trattamento perché io ripeto non ne capisco niente però ho ascoltato attentamente ciò che lui mi ha detto il discorso che lui mi ha fatto mi è sembrato filare molto bene mi ha trasmesso molta fiducia mi ha dedicato molto tempo ho richiesto un secondo appuntamento e nel secondo appuntamento lui è stato molto disponibile mi ero fatta tutta una lista sono addirittura arrivata lì con la lista di domande e una per una gliele ho fatte e lui è stato lì a rispondermi a tutte quindi a differenza di chi mi aveva liquidato in poche parole mi ha tolto tutti i miei dubbi non abbiamo parlato di prezzo non abbiamo parlato proprio di del litter che intendeva fare il prezzo più o meno ragazzi era in linea con quello che mi avevano fatto gli altri anzi poi dopo la fine ho scoperto pure che in effetti ragionando sul prezzo avevo avuto anche il miglior trattamento sia per quanto riguarda la suddivisione appunto del pagamento in sé per sé sia per quanto riguarda la cifra totale però la mia decisione non ha assolutamente preso in considerazione il prezzo se non come ultima spiaggia nel senso se laddove mi fossi convinta di fare il trattamento con lui fossi andata da lui e lui anziché propormi i 5.000 che più o meno chiedono tutti mi avesse chiesto 10.000 due domande me le sarei fatte probabilmente non avrei scelto lui perché uno non ce li ho 10.000 e due mi sarei detta ma perché chiede più o meno il doppio degli altri questo è ovvio però nell'ordine del migliaio di euro onestamente io questa domanda non me la sarei fatta cioè se uno mi chiede 4.5 l'altro mi chiede 5.5 ma quello che mi chiede 4.5 non mi ha minimamente ascoltato mi ha trattato come se mi stesse vendendo una macchina non ha assolutamente conquistato la mia fiducia mi è sembrato uno quasi annoiato quasi scocciato di ascoltare le mie le mie domande è ovvio che io anche se me lo regali non vengo a fare il trattamento ortodontico da te questo è ovvio e vi assicuro che su 10 ortodonzisti che ho visto almeno 5 si sono comportati in questo modo altra cosa ci sono dei dentisti degli ortodonzisti che vi chiederanno di pagare la visita di preventivo onestamente io ho scelto quelli che non mi hanno chiesto il pagamento della visita di preventivo non voglio discutere se questo è giusto o è sbagliato magari è anche giusto che per emettere un preventivo loro si facciano pagare dal mio punto di vista io non potevo permettermi di vedere 10 ortodonzisti di avere 10 preventivi e di pagare 100 euro a visita perché avrei dovuto spendere 1000 euro solo per avere un preventivo quindi io dal mio punto di vista di paziente ho scelto gli ortodonzisti che non mi hanno chiesto di pagare la visita la prima visita questo sta a voi se ritenete di potervelo permettere oppure no io nel mio caso ovviamente ho dovuto fare anche i conti con una questione economica e ribadisco non giudico male non dico che non sia giusto semplicemente ho ritenuto appunto di di dover fare questa scelta la maggior parte dei dentisti degli ortodonzisti scusate non vi chiederanno di pagare la visita la prima visita però sappiate che parecchi lo chiedono e nel fissare gli appuntamenti me ne sono capitati tre e io molto tranquillamente ho detto guardi allora non mi interessa non fatevi prendere dalla vergogna dal sentirvi dei barboni che si rifiutano di pagare la visita d'altronde sono i vostri soldi sudati e quindi potete assolutamente esercitare il vostro diritto di appunto non dover pagare la visita non fate l'errore di darlo per scontato perché poi vi presentate lì e vi capita cioè se volete vedere dieci ortodonzisti vi capiterà magari di dover buttare 300 euro e poi magari quel ortodonzista non è quello magari che voi scegliete quindi nel momento in cui chiamate per fissare la visita chiedete anche scusi ma la prima visita ha un costo se vi dice di sì molto tranquillamente dite guardi allora preferisco lasciar perdere purtroppo a volte ci facciamo dei problemi quasi come se insomma stessimo offendendo qualcuno però così come a parte che io ritengo che non sia molto onesto per esempio non dirlo ho trovato anzi quattro mi avevano chiesto io ho fatto dieci dieci più o meno dieci visite però ho fatto più chiamate e mi sembra di avere scartato quattro stodonzisti che mi avevano chiesto il pagamento tre me lo avevano detto subito cioè quando io stavo fissando l'appuntamento la segretaria mi ha detto guardi le dico che la visita ha questo costo e io appunto ho declinato un altro invece non me lo ha detto ma siccome ero sempre io a chiederlo prima di fissare l'appuntamento quando lei mi ha detto si sono disponibili in questo giorno in questo orario io ho chiesto ma la visita ha un costo e lei mi ha detto ah si la visita ha un costo secondo me questo non è giusto dovrebbero dirlo nel momento in cui fissi l'appuntamento uno perché non credo che loro non sappiano che diciamo più del secondo me un 70% 80% degli ortodonzisti non ve la fa pagare e quindi io credo che loro lo sappiano e quindi credo che sarebbe più corretto dire al paziente che sta chiamando che la visita a pagamento piuttosto che non dirglielo in quel momento farlo spiazzarlo e presumibilmente perderlo anche come paziente perché uno ci rimane un po' così magari non se lo aspetta e poi non è che abbia magari tutta questa voglia di continuare a rivolgersi a quel medico se sente che la cosa non è stata fatta in chiarezza se tu me lo dici e io accetto ovviamente non c'è nessun tipo di problema però se tu non me lo dici e rimango spiazzato è probabile che poi io non abbia voglia di tra virgolette fidarmi di te è un po' una questione un po' istintiva no? quindi ecco io giustamente non ho trovato per esempio corretto che uno di questi non me l'abbia neanche detto me l'abbia detto soltanto quando io glielo ho chiesto quindi se non glielo avessi chiesto sarei arrivata lì avrei avuto la sorpresa quindi non vi fate problemi chiedetelo è un vostro diritto non c'è niente di male se invece ritenete appunto volete essere per forza essere visitati da quel dottore e ritenete giusto pagare una visita pagatela con tranquillità io non voglio assolutamente emettere un giudizio in questo senso credo che ognuno sia libero di fare come vuole io ovviamente ho fatto come ritenevo giusto detto questo credo di avervi un po' raccontato quali sono state le mie sensazioni e i miei parametri di scelta ci vediamo quindi praticamente al prossimo video di aggiornamento che sarà magari non so o quello del giorno in cui metterò la prima mascherina o non so se preventivamente al giorno in cui andrò a mettere la prima mascherina dovrò fare delle estrazioni comunque vi terrò aggiornati perché appunto ho visto tanti video che riguardano l'invisalign ma che era praticamente un solo video che raccontava genericamente un po' l'esperienza così detta un po' genericamente però io invece vorrei farvi vedere proprio le tappe quindi vorrei partire dal farvi vedere in che stato ho la mia bocca facendovi vedere il clean check quando presumibilmente appunto il mio ortodonzista me lo verrà me lo darà me lo consegnerà e quindi vi faccio vedere esattamente che tipo di stortura ho per poi farvi vedere mese dopo mese come i denti cambiano e si raddrizzano perché vorrei che dei coetanei quindi delle persone che hanno magari superato i 40 anni e che so che sono sempre quelli che pensano di non essere più in tempo per farlo possono trovare in questi video diciamo uno spunto per poter intraprendere a loro volta questo percorso quindi spero di poter essere loro utile perché quando io ho cercato non ho trovato niente vi mando un bacio quindi vi ringrazio di essere stati qua ad ascoltare la mia esperienza per il momento se il video vi è piaciuto potete lasciare un like a questo video iscrivervi attivare la campanella e venirmi a seguire anche negli altri social quindi su Instagram dove sono Saidori e su Facebook dove sono l'angolo di Saidori un'ultima cosa sappiate che c'è una playlist che per il momento contiene solo appunto questi due video che è la playlist appunto di Road to Invisalign dove raccoglierò man mano i video quindi se siete interessati solo a questi potete ovviamente ritrovare tutti i video in quella playlist vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao